Il circolo tennis Teramo compie 50 anni e si festeggia. Una realtà sportiva importante, la più longeva della provincia. Un centro che ha visto passare ed ha formato sulla sua terra rossa tanti atleti di livello nazionale. Un'esperienza che soci ed ex soci ricordano come meravigliosa fin da quella prima cena di Costituzione nel 1968 in un ristorante terramano, il Cantinone, che oggi non esiste più. È una serata veramente speciale. Io ricordo esattamente quella di 50 anni fa, quando nel ristorante Cantinone costituimmo questo circolo. L'abbiamo portato avanti diverse persone. Io per 22 anni ho fatto il presidente, ma sono stati 50 anni entusiasmanti perché abbiamo vissuto tutto l'arco del tennis italiano nella nostra provincia con gli alti e bassi portando sui campi da tennis tante generazioni. Il circolo tennis Teramo, oltre a vantare una longevità invidiabile, può affermare di possedere una scuola tennis tra le migliori d'Italia. In una classifica nazionale questa si è piazzata tra le prime 60 del paese. Il circolo tennis è una realtà per la città di Teramo importantissima. Siamo presenti dal 1968 ed è una delle strutture più anziane della provincia di Teramo. Quindi siamo orgogliosi di festeggiare questo cinquantesimo insieme a tanti amici, insieme a tanti soci e a tanti ex presidenti che sono venuti a trovarci, ex atleti, atleti attuali. Siamo veramente in mezzo a tanti amici e siamo contenti di festeggiare così i 50 anni del circolo. La nostra scuola è una scuola assolutamente all'avanguardia. È tra le prime 60 in Italia dati della federazione. Conta un gran numero di ragazzi e qui con noi stasera ce ne sono un paio che hanno vinto addirittura oggi pomeriggio l'ultimo torneo svolto al circolo. Ragazzi che hanno sicuramente un futuro.